8 vivi Bellissimo match eh Bellissimo match Bellissimo Due tentativi in totale Guarda guarda Allora mettimi il caccia Qua facciamo i pezzi Fer No qui moriremo Oh baby Let's go E ragazzi io sono Ferinichi E io sono Steph E questo oggi giocheremo a Fortnite In un modo molto particolare Io utilizzerò il mouse E io me le vado dalla In pratica saremo Stiamo rispettando il nostro canale Perché questa qua è una challenge che Esiste a livello internazionale Si è fatta in diversi giochi E di solito si chiama proprio Two players one computer Two players one pc Two players bla 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 E quindi noi E quindi noi siamo noi Per la prima volta saremo Noi che facciamo noi I two players one pc In questo caso Esatto Perché non è una console Però siamo finalmente noi Oh che dire Però moriremo Moriremo Allora io ho scelto la tastiera Ok E io ho scelto il mouse E Steph ha scelto il mouse Il problema è che io ho provato a mettermi i cudi Non riesco a usare la tastiera senza tenere il mouse Lo so Per la troppa abitudine Pensa anche io Fare milla Infazziremo Infazziremo raga Continuo a fare Allora lasciate tutti i likes Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina E dateci la buona fortuna Ovviamente l'obiettivo sarà Prima fare una kill Poi farne due E poi arrivare in una posizione decente Vincere raga Io lo trovo già Guarda Finalmente siamo i two players Allora alleniamoci un po' Prova a muoverti in giro Ok Ma è normale che di nuovo uno nel piccone Non l'avevi cambiato tu? Eh non mi piaceva Ah ok Allora quindi Che di Com'è il feeling? Cioè capisci un po' Verso magari dove voglio andare Eh ma il problema è quando devi fare questo Quando devi fare questo Capito? Sì E poi come levo la costruzione? Io c'ero in questo tasto del mouse In quale? Questo Questo? Per ritornare all'arma Sì Quindi così è? Sì Ok ricordamelo Avete la togli Ok Ricordati Cerca di ricordarmelo Poi le armi mi incassinerò Sì devi sticciare tu le armi eh No spiace le tu con la rotellina Steph cavoli tuoi No cavoli tuoi Steph cavoli tuoi Andiamo a Borgo Pislacco No ti fai Raga moriamo Raga siamo morti È impossibile Io impazzisco Lì c'è un'arma non è male Però per ora continuano ad andare avanti Casa di sinistra Questa 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 È difficile questa eh Sì lo so lo so tranquilla Per andare più veloci Apri Ok Luta C'è qualcuno Devo correre Metti l'arma Ok E stop in noi Ok vai Buca qua No non lo posso fare vai Metti l'arma Vai Ricarica Cavolo non mi vengono Abbassati Non mi vengono in automatico Ste robe Devo cambiare un attimino I dpi Sto impazzendo Mi salto tutti i colpi Ok È una follia Ok Allora Prendi Ok Shield Aspetta Devi cambiarlo È difficile Perché non mi viene Bene Io devo solo sparare Picone Non ci riesco Ok Scendiamo Ok Ok Andiamo ancora più No Picone Perché Perché devo rompere Ah devi farti i materiali Sì e qua dentro Ok ci sto prendendo la mano Ok Questo è tuo Questo è tuo Ok Mi dimentico Perché Stefano si apre la porta Oh Buona Perfetto Apri Ok Devo ottenere una concentrazione Allora Apri le munizioni Apri le munizioni Ok Ok Chiudi Mi sta impazzendo il cervello Te lo giuro Tranquilla Metti il pompa Ok Aspetta Ok Ok Ma le altre me le hai messe Troppo lontane E me se dici Io non sono abituata A sto load out Stef E caccia 5 che è Ok Cos'è 4 Allora mettilo su 2 Cioè mettilo su 3 No lascia perdere Fermati Non mi devi correre all'infinito Vai verso destra Qua Sì Ok G Ferma Ok Pompa pompa Cavolo Muoviti Corri Pere Che cavolo mi bolli la tastiera No non fa È il tuo unico ruolo Mi hai fatto panicare Non fa Non fa Non fa È troppo Sta roba Cioè tu pensi una cosa Il cervello non ti funziona Stef È più difficile avere la tastiera Porca miseria A te Cioè perché mi hai dato il compito Di avere la tastiera È impossibile sta roba ragazzi Possibile Eccolo Grazie Dovremmo costruire Vai Corri però Corri 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 Cavolo Cavolo Devo Girati Metti Le messe di c Le messe di c Togliti Togliti cosa Aiuto No non fa Stef Non fa 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 Lutta Non ce la posso fare Devi smettere Non ce la faccio Mi fa venire l'azio Perché urli Prendi Bende Aspetta Nascondiamoci Tieni la bende Arrangiati Cioè mi hai fatto Villa E lei non correva Con shift Porca miseria Perché allora Allora Finché non lo provate Con solini Non ve ne rendete conto Quando non state usando Un mouse Non vi sembra Neanche di giocare Vi sembra Di star guardando Ok Vi sembra Di star guardando Un gameplay Quindi non avete La velocità Di reazione Che avete Quando succede A voi Allora Facciamo così E così Ok chiudi Ok Ricarica Davvero assurda E mentre alzati E andiamo Ricarichiamo anche le altre C'è tipo Ah ah Puggerà poppa Vai a lutarlo Zitto Zitto a cosa Stavo ricaricando Fai ricaricare Voglio ricaricare Le armi Non mi rovi Vai Perché poi Non ho le cuffie Quindi tipo Ho capito Ma ti dico C'è Tu pensa Ricaricare Metti pompa Andiamo a luttare Vai Salta Vai Bende Le prendiamo Le bende Sì Ok Vuoi il tattico o no? Allora Questo di sicuro Muoviti Non te lo faccio Lo switch eh No allora no Cioè non te le faccio Allora mettimi il cazzo in un punto comodo Lì ok E questo c'è un fintacchino in che esiste Ok Andiamo È comodo però perché posso stare affrontato Ok Entrati a te Ok Entrati in casa Ok Allora Calma Villa verso l'alto Ok vai Leva la costruzione Smetti di correre Ok Ok mettimi Sì Ok Ok per ora devo ascoltare e capire Ok sta alluttando nelle varie porte Ok L'interno a noi non dovremmo trovare nessuno Ok Pompa Più avanti più avanti Ok fra poco sbucca dal tetto Ok Ok le sniperate quindi mi muovo Sta aprendo la cesta Quanto raga ovviamente se è entrato avrei spaccato il tetto Ovvio Ho troppa paura Ok più avanti più avanti devo poter sparare Lo sa che ci siamo Sì ovvio Vai No Che vuoi fare? Devo spararlo Cambia arma M16 Cerco anche di muovermi così non ti prende Ma siamo stati bravi dai Questo sapeva giocare il problema era quello È ovvio Dove cambiare? È bello un tattico blu eh A me piace il pump Ah ok Basta ferma Facciamo anche i pro guarda Wow Ci muoviamo Alla è fatta Ho tre kill Ok con questa dovremmo andare full Altro tre Ok abbiamo preso un sacco di vita Allora ricarica tutte le armi Ok Quindi M16 E mentre cammina dai Su Perché la rotellina è al contrario? Tu ce l'hai al contrario Ferre stai male Cioè per andare all'arma dopo devo andare in basso invece che in alto Certo la rotellina va giù È il contrario No Steph Vai in avanti vai in su vai indietro vai in giù No Steph Ha il cervello rotto No se tu ha il cervello rotto Cioè il cervello è totalmente rotto Confondi sinistra e destra E quindi Perché scorri verso il basso Ma no Certo No Altrimenti ce l'hai invertita quando navighi nel web Steph è ovvio Eh ma scusami Io voglio andare verso avanti Vado verso avanti Invece va al contrario L'avanti lo vedi che è un crescendo Due tre quattro Quindi è normale che scenda Steph Ma che stai a dire? Che mette nei commenti ma So già la vostra risposta Perché tu hai un mouse No fai la paperella Dov'è? Qua Almeno fai anche il pass battaglia Brava Tu usi un mouse Quello che usiamo per guardare i telefilm la notte Che ha la rotellina invertita Sei abituato a quello Quindi stai zitto Steph È normale No raga È ubriaco Ubriaco oggi Non è normale No non sta bene Non sta bene 15 vivi Ne mancano 5 Ok E non stiamo neanche giocando difensivi Stiamo correndo in giro Uccire la caccia Ok Non proviamo neanche a costruirci C'è qualcuna qua secondo me Ok No Non hai visto anche tu un albero scomparire? No No Ok Ci ho fatto caso Allora Muoviti abbastanza zigzaggo Guardiamoci intorno Ma non sembra ci sia nessuno in questa zona Ricontrolliamo verso Acry Ok Che è probabile che magari qualcuno ha fatto quel giro lì Eccolo Oh Grazie Caccia Sei vai Hai già col caccia? Sì nel senso switchami ad M16 Dopo che sparò questo hit Anzi Va bene Vabbè no 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 Non pensavo veste fightarci E Ok A posto Ok Andiamo a lutarlo? Sì Girati Devo fare Sai che si usano le scale per fare quello? Non mi interessa Perché così hai anche i proietti riparati Non mi interessa Ok Allora Steph Sì È già difficile così Per favore 4 kill Per favore 10 vivi Stai zitto Stai zitto Un trappolino Sei così No Allora aspetta Oh Allora Non c'è bisogno Vai Che vuoi prendere? Non ti sto capendo Passa sopra le cose Che così le luttiamo Grazie E poi prendi gli scillini Eh Al posto delle bende? Ti uccido eh No al posto del caccia Sì al posto del caccia Ma quando vai? Ma tu poi lo riprendi Anche le bende le riprendi No ci teniamo l'oscillino Via Andiamo Allora Ok Ok Pompa E carico E caccia Tutto carico Mi sa Sì Ok Allora stiamo ad M16 Ok 276 colpi 8 vivi Bellissimo match Bellissimo match Bellissimo Due tentativi in totale Guarda guarda Allora mettimi il caccia Qua facciamo I pezzi No qui moriremo Oh Baby Let's go Ok Assurda sta roba Assurda Mi hai lasciato senza voce Totalmente Per quello ho dovuto schierare la gola Cioè mi hai lasciato Ah Sai col Col cosi in gola Capito Il malloppone Perché ho detto Non è possibile Non è successo quello che appena vista Invece è successo 5 kill se vivi Oh mio dio Oh mio dio Sono soddisfattissimo Non possiamo vincere Perché Non puoi fare la bill battle Non puoi fare la bill battle Non puoi fare la bill battle Si può provare ma non fa No non possiamo fare la bill battle È quello il problema Però dai Io premo mura e rampa a casa E tu vai Ok pipipipipi Allora mettimi il piano Ok Una scala Altrimenti salta Ok Le va Allora ferma Stiamo qua sopra Fai muri Ok scala Così andava bene Si Scala Aspetta Pronta Vai Ok Va bene così Va bene così Giriamci un attimo Ok fai tutto quello che ti sta Aspetta Dificilissimo Ok Allora avanza leggermente di più Ok No un po' meno Ok Allora basta così Puoi star ferma Non ci possono sparare Ok Ah posso riposare le mani Tre vivi Ok cadono a airdrop Non possiamo controllare se dietro io ne cerco qualcuno E fai modify Avvicinate un po' di più Così su due piedi non sembra Ok Ok riavanzo un po' Avanzo 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 Dove non l'ho visto Aspetta C'è che sta fermi ormai Ho perso l'attimo Aspetta No no Stai più avanti Più avanti più avanti più avanti Ma ormai è morto Cavolo Sembrava ti stesse mirando No Stavo guardando l'altro Avanti 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 Più giù Fede è un continuo Su e giù Su e giù Su e giù Giù Ok Ti avviso io Se devo sparare vai su Perché mi metti in semi blocco Zitto Devo sparare su Su Ok Ok Sto prendendo il ritmo Hai capito Non rompere Non rompere E mo come lo killiamo Adesso Ma da ora che finisca sta roba Non mi posso più Questo sa anche giocare Questo sa anche giocare Certo No 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 Basta E quindi E quindi Ora si aspetta Ora si muore Ok L'hai visto? Brava Mettimi Aspetta No 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 Troppo 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 Torni dietro Su M16 Ok Non ce la faccio così No vabbè ci stava No 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 Non potevo farti capire Che dovevo fare Non fa non fa non fa Ah È troppo complicato È troppo complicato Hai otratto uno da 11 kill Con skin di ninja Quindi della season 1 L'avevo capito Che era bravo Infatti lo volevo killare Sul primo momento Quando lui stava sparando l'aipro Eh lo so Io volevo fare lì L'accio da lui È sempre difficile Rimanere concentrati Quando non stai giocando del tutto È complicato Comunque Non è andato male Terzi 5 kill Non è andato male Ci fermiamo Prima che si spenga la telecamera Qua sotto altri video Iscrivetevi Cliccate campanellina Fateci sapere Se volete vedere Altre sfide Che ci fanno letteralmente impazzire Giocando a Fortnite E ci fermiamo così Ciao ciao